Ho dipinto un mondo al rovescio e tagliato le teste alle mie figure, che ho lasciato volare da qualche parte nei miei quadri. Marc Chagall, la più grande retrospettiva a lui dedicata in Italia negli ultimi 50 anni. I grandi capolavori dell'artista dal 1908 al 1985, in mostra a Palazzo Reale a Milano, dal 17 settembre al 1 febbraio 2015. Grazie.